Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi in esclusiva per voi testeremo le sbarre della Spartaco appena montata. Inoltre, shooting fotografico di Gaggi Iataro. Eccoci arrivati qui al campo per l'allenamento di Gaggi. Riscaldamento iniziato. Allora, iniziamo a fare 20 trazioni e 20 di Bip. Divideteli in serie o 4x5 o 5x4, basta che arrivate a un totale di 20. Allora, iniziamo a fare 20 trazioni e 20 di Bip. 4x5 Tiger Push Up per 5 di serie. È un esercizio molto efficace per i gomiti e i tricipiti, che per lo slow muscle up ti aiuta tanto. Allora, iniziamo a fare 20 trazioni e i tricipiti, che per lo slow muscle up ti aiuta tanto. Allora, iniziamo a fare 20 trazioni e i tricipiti, che per lo slow muscle up ti aiuta tanto. Allora, iniziamo a fare 20 trazioni e i tricipiti, che per lo slow muscle up ti aiuta tanto. Allora, iniziamo a fare 20 trazioni e i tricipiti, che per lo slow muscle up ti aiuta tanto. Ok. Non è un'applicatoria scendere in fondo, l'importante è che mantenete le braccia tese. Le braccia tese piuttosto scendite un po' più su. E poi su, ok. Inarca di più. Ok. In 5 minuti di tempo che vi metto adesso dovete fare più trazioni possibili. Potete anche scendere e riposarvi, però l'obiettivo è fare più trazioni possibili. E' un buon numero è farli sopra i 35. In 5 minuti? In 5 minuti di fila, sì. Allora, siete pronti? Vai, abbiamo iniziato l'RT. Ok, va bene. Quanto sei, Simo? 17. 17. Sono passati 1 minuto e 35. Dai, dai, ancora 3 minuti e mezzo. Ragazzi, abbiamo fatto questo arm wrap ancora. Oggi io ho fatto i dip. Male male, oggi 36. L'obiettivo diceva Gaggi che è minimo 45 per i dip, mentre 35 per i pull up. Quindi per le domande che mi sono state fatte anche in precedenza, questi sono i valori a cui mirare all'inizio. Allora, l'allenamento di oggi è abbastanza intenso, soprattutto fare due giorni di fila lo vai sicuramente a sentire poi a livello corporeo, quindi non facile. Nel frattempo è iniziato lo shooting della Puma, qui con Gaggi e il fotografo Giuseppe Buono dietro di me. Seguite la sua pagina, il link è questo che vedete qui sotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il video è terminato anche oggi, se il video vi è piaciuto mettete tasto like, ricordatevi di iscrivervi al canale e al prossimo video!